Ci scrive Gianvito, ciao mitico sono Gianvito e ho 12 anni appena compiuti, con regalo i miei amici con cui ho formato un gruppo hanno detto che faremo il nostro primo CD, tutto new metal e con alcune cover del System of Down, il gruppo che più ci ispira. Ti volevo chiedere cosa ne pensi dei Napalm Death, per me sono l'icona della musica Greencore, un saluto da tutta pari. 19 anni, capite, Napalm Death ci ho suonato insieme in Sardegna, tre anni fa mi ricordo a un festival, loro oltre ad essere una grande band sono veramente delle grandi persone, impegnate anche socialmente.